Il tiro che non va, tocca a Resser, recupera Ejim, va a Marquez Ejim, ancora a zero come ha sottolineato la grafica precedente, mette però la tripla Marquez Ejim, è questo giocatore, Marquez Ejim da all'Umana Reier il meno 7, 3, 2, 6, Ejim rimane a terra sulla pressione, la palla sotto, però Ogma arriva la veloce da parte di Melvin Ejim, il contropiede dell'Umana Reier con Marquez Ejim. Che giocata da parte di Melvin Ejim, time out per Trento, assolutamente da rivedere, la veloce non è una stoppata semplice, ti guardiamo, su Dustin Ogg arriva Melvin Ejim.